Oggi vi voglio parlare di una cosa sola di business che è questa, la ovunque strategy. Perché vi parlo di ovunque strategy? Perché io spesso mi trovo a dover dare consigli anche alle aziende, è uno dei lavori che faccio. E quindi il problema è dove dobbiamo pubblicare? E allora la risposta è che in sostanza canali sono tanti e non si può scegliere un canale solo, perché le aziende devono pubblicare dove c'è il pubblico ed è evidente che su TikTok ci sarà un pubblico diverso rispetto a quello di Facebook, rispetto a quello di Instagram, rispetto ai vari, agli altri social, a quello di YouTube e così via. E anche il tipo di formato, uno sarà quadrato, l'altro sarà rettangolare, l'altro sarà appunto invece messo per il lungo, cioè verticale e così via. Perché anche i contenuti non sono gli stessi, hanno durate diverse, tipi di fruizione diverse e quindi bisognerà usarli in modo diverso. Però non bisogna, come dire, chiedersi troppo dove dobbiamo esserci, perché dobbiamo essere un po' dappertutto. Il punto è come farlo, farlo nel modo corretto, eccetera. Un'altra questione importante della, tra virgolette, ovunque strategy, è quella per cui bisogna ricordarci che di là ci sono persone, persone vere, e che quindi in fondo, anche se il mezzo gli fa vedere quello che noi pubblichiamo attraverso diverse finestre, diverse dimensioni, alla fine dobbiamo comunicare con loro e quindi dobbiamo ricordarci che oggi le piattaforme che funzionano possono essere YouTube, Facebook, eccetera, eccetera, ma poi alla fine cambieranno nel tempo, è arrivato recentemente Clubhouse, eccetera, eccetera, ma poi alla fine di là ci sono sempre persone. E questo è molto importante.